Adesso vi faccio vedere come si sistema una macchina elettrica, adesso vado con i tombini a livello, vado con i tombini a livello, vado là lì, qui venite qui in Svizzera, qua funziona tutto perfetto, allora qui in Svizzera, qui da noi in Svizzera, succede che non vieni con un foglio di carta, non vieni con un foglio di carta, devi avere le professioni, ma in Italia siamo spianati, la borsa sta crollando, siamo spianati, Lo spread alle stelle, hai mai comprato una casa? Guarda, alle canarie le case costano troppo, capito? Costano troppo, io ve l'avevo detto, ve l'avevo detto, ve l'avevo detto, ve l'avevo detto, poi sai ci sono i soliti troll, i soliti troll, no comunque è vero, è vero, è vero, a Milano, sono stato a Milano, a Milano, mangiare il kebab a Milano, a Milano, ma parliamo dei tombini a livello dai, allora hai capito? Porta questo curriculum, voi italiani, siete spianati, siete spianati, non sapete fare niente voi italiani, siete spianati, in Svizzera funziona tutto, i treni funzionano, gli autobus funzionano, voi siete spianati, siete spianati, Io vivo con la mammina, vivo con la mammina che mi fa anche il letto, voi siete spianati, siete rovinati, e poi scusate, 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 ma tutti con la bandiera, quando vince l'Italia, tutti col bandierone, tutti col bandierone, tutti col bandierone, E poi dicevate a me che do gli aiuti, che aiuto le persone, che aiuto la gente, ma io non replico agli hater, io non replico agli hater, agli hater, ok? Io ho i miei aiuti, i miei aiuti, i miei aiuti finanziari per le popolazioni povere, lo faccio per loro, lo faccio, lo faccio per loro, hai capito? Poi di certi argomenti non parlo più perché se no mi vergogno e mi tirano i pomodori.